Ciao cucciolini e cucciolini! Come state? Buona Pasqua a tutti! Anzi, buona Pasquetta ormai quando vedrete questo video. Guardate un po' alle mie spalle quante uova di Pasqua hanno ricevuto Vanessa e Anastasia. Abbiamo dovuto chiedere l'aiuto a Isabella e Daria, le cugine inglesi, per poterle aprire tutte perché sono tantissime! Il problema è che io non trovo più né Vanessa, né Anastasia, né Isabella e neanche Aria. E non so dove sono, ragazzi, aiutatemi! Se le vedete, scrivetemelo nei commenti! Quindi andiamo subito a cercare Vanessa, Anastasia, Isabella e Daria e poi ci prepariamo una routine serale super originale con l'apertura delle uova di Pasqua. Pronti? Mi sembra di aver visto qualcuno... Un attimino, eh, torno subito. Mi sembrava di aver visto qualcuno passare, delle voci, però non vedo nessuno, non riesco veramente a capire... Aspetta, scusate, ho visto una testa. Avete visto anche voi la testa? Scrivetelo nei commenti! Ah, ma tu mangi sempre! Cosa stai mangiando? Niente. Niente. Senti, non trovo Vanessa, Anastasia... Eh, non, anche io! Ok, andiamo a cercarle che dobbiamo fare l'apertura di queste uova che sono tantissime. No, non ci sono. Isabella, le abbiamo contate le uova? Abbiamo... Sì, sì, sì. Ok, andiamo a cercare... Dove siamo? Non lo so, ma dove sono? Allora, intanto mi piacerebbe contarle queste uova, sono veramente, veramente tante. Ma, allora, cosa ci fate voi qui? Ah, furbette, vi volevate mangiare tutte le uova? Allora, ciao, Aria. Ciao. Ciao, amore! In pigiama, siete tutte in pigiama, tranne Vane che ancora non si è cambiata, ma fa niente. Salle bavole! Uhu! 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 Ok, tre, due, uno... Ok, come facciamo adesso per questa apertura? Chiudiamo gli occhi, peschiamo e apriamo. Blindfolded! Uhu! Va bene. Tu, dai, inizio le danze. Contiamo le uova? No. Dance! Dance me! Dance? Oh, dai, inizio le danze! Yuhu! Ventuno! Ventuno! Mamma mia, ma non ce la faremo mai, ragazze! Dai, Aria, chiudi gli occhi! Close your eyes... 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 Ok, choose... Choose... Choose a X! Vai, basta! Olè! Wow, dai! Anastasia, chiudi gli occhi! Gira la ruota, giù il gettone e si gira, tenta che cagli! Ma sia lo stesso, dai! Wow! E' il tuo! Bene! Vai, Isabella! Well, la, Isabella si è allungata e ha preso quella delle principesse! Yeah! Isabella non è molto felice. Aria! Aria! Bella! Bravo! Vai, Ani! E tu, Ani? Sì! Sì! Questo è... Miei! Questo è mio, questo è mio! Va bene, ok! Vai! Vanessa si è spostata di postazione e sceglie cosa sceglie, cosa sceglie Vanessa? Questo dai, questo dai, questo dai! Questo dai! Ani è mio! Wow! Sei rimasta senza uova! Te è quella delle principesse! Vai, Isabella, dai! Dai un'occhiata e poi sceglie, dai! È il mio! Buono! Aria! Ok, Aria! Luke and shoes! Yes! L'uovo delle pinipone! Anastasia! Luke! Ed insieme! Guarda che cavi, l'ho la sedia, l'ha storia! Locciolato Novi! Isabella! Isabella! Vai! Ed insieme, anche Isabella! Aria! Oh! Yeah! Kinder! Vai, Anastasia! Bello, amore! Vai, Vanessa! Cos'è? Un uovo, cos'è? Eh, boh! È fatto così! Ma niente, vedremo cosa ci sarà dentro, una sorpresa! Vai, Isabella! One, Isabella! Questo, questo, questo... Ok, luminosi, Otti! Luminosi, Otti! Yeah! Nice! Arietta! Dove sei? Cucciolino della calzina? No, no! Un uovo! Un uovo! Oh! Olè! Vai, vai, Anastasia! Vai, Anastasia! Eh, un altro dei d'insieme! Ma quanti ne abbiamo dei d'insieme? Vai, sta! Spesso! Bellissimo! Le principesse! Vai, Isabella! 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 Anastasia, where are you? We are... Ah no! Ancora d'insieme! Woo! Ok, una, due, tre! Tre, due, tre! What? I got very many toys! Yes! Anastasia, Anastasia, where are you? Here I am! Kinder per Anastasia! Gli ultimi due, Vanessa e Isabella, ti contendono le ultime due uova! Wow! Ok, Isabella, questo è tuo! Adesso dobbiamo aprirle! Allora, Alla, choose a Enes! Oh, quello delle pinipon! Ok! Aria ha scelto! Bene! Vuoi aprire subito quel regalino lì? E lo metto? Wow! Quindi non lo apriamo neanche l'uovo? Eh? Va bene! Anastasia, tocca a te! Scegli un uovo! Quello dei d'insieme, va bene! Ok, Anastasia, vediamo cosa c'è dentro l'uovo dei d'insieme! Vai! Vai! Cacquaggio! No! È un puzzle! Il puzzle dei d'insieme! Wow! Che bello! Poi lo facciamo, eh! Oh, oh, oh! Non iniziamo, eh! Perché? Vai, Vane, apri! A tutti! Io ho preso questo per Vanessa! Bello! La Clio Makeup! Eh, sì! Vediamo un po' che trucchi ci sono qua dentro! Mmm! Profumoso! Mi sa che qua ci scappa l'assaggino anche da parte mia, eh! Che ci sono? Apri! Ma non c'è trucchi? Non lo so! Mamma mia! Non c'è trucco e non c'è inganno, Vanessa! Guarda! Anastasia! Non ti ammazzare di cioccolato, eh! Sennò più concludiamo qua il video subito! Eh no, amore, no! Eh? Eh! Cos'è? Eh, è questo! Bella! E la facciamo... Vanessa vuole tutto! No, Vanessa, a me piace di più questo invece! È bellissima, provala! Eh, io ce l'ho questo! Ma che carina! Quanto fa la trucca! È bellissima! Ma non sono i trucchi! È bellissima! Isabella, tocca a te! Io voglio questo! Vai, va bene! Ok, Isabella! Vediamo un po'! Qua ci vuole una forza... Ok, ma niente! Carino, delfino! Va bene! Che bello! Ok! No! Ok! Aiuto! Cos'è? What is it? Una gomma! Cos'è? Gomma! Gomma? Eh, come si dice gomma? Rubber! Ani, Ani, basta! Ani! Basta cioccolato! Ha ragione, Aria, eh! Dai, Ani, dai! LOL! LOL! Occhio che cade! Vedi, ma... Wow! Cos'è? Fa vedere! Un sticker! Sticker? Fa vedere! Anastasia, se mangio ancora uova, concludo il video! Cosa sono? Vabbè! Ah, sì! Le sticker! Quelli da attaccare! Ok! Qual è? Cos'hai scelto? Anche tu, i luminosotti! Ti prendi quando, dammi la mezza! Ok! E la retina a quello! Oddio, è duro! È vero! Eh, mamma mia! Per l'amore! La balena anche tu! Ma è bellissima! No! No! Non è questo! E la giù! Che bello! Che bello! Non lo vedo che è pure! Ok, apri Isabella! E poi concludiamo il video perché Anastasia sta mangiando troppo cioccolata! E invece sì! No! Cosa c'è? È un'altra! Non ci posso credere! Vabbè, compriremo un acquario e metteremo tutti questi pesciolini dentro! Vabbè, la collezione dei dentini e delle balene! Anastasia, io ti do l'ultima chance! L'ultima, eh! Cuccioline, cuccioline, scrivetemi nei messaggi se ho ragione! Se Anastasia mangerà ancora un solo pezzettino di cioccolato, verrà espulsa dalla challenge! Non ridere perché io lo faccio, eh! Vai, Aria! Sì, c'è bene! Aria, secondo te cosa c'è? Make up? Vai! Vai! Hai trovato make up? Ma come? Dovevi trovarlo tu il make up? C'è due orecchiette da con il mezzo! Tocca a te, vai! Vai, dai! Make up ora tu, allora! Silent, please! Silenzio! Già rotto, ma ti fa? Allora... Hai due orecchiette! Sì, ferma! Come hai due orecchiette? Uno, dammelo a me! Ok! Troppo! Sì, 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 sì! Ma io non capisco, ma di chi sono ancora tutte queste? Io, io! Ma sono troppe! È impossibile! Uno, due, tre! E una è tua, allora! Cosa ti... Ma no, non le ho! Sono quattro, eh! No, non le ho tre di questo! Ok! Ma no, guarda che... Isabella! È furba, Isabella, è furba! Aveva preso un uomo in più! Ma noi l'abbiamo beccata! Beccata, Isabella, beccata! Vai, Vanessa, dai! Che qua andiamo a dormire a mezzanotte! Ma, posso assaggiare se mi fai questo? No! È una nocciola! No! Domani puoi mangiarlo, oggi no! Sennò vai fuori dal gioco! Io, ero se... Vanessa ha trovato l'uovo d'oro! È vinto! Vai, apri il uovo d'oro! Un pezzo di due! Uno! 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 No! Scusami, pezzo di questo! ok io ce l'ho a Ferrero ma sei ci sono le due grazie Daniella è Daniella? si brava che bello è piccolino lui non è il bambino di quello che ho aperto io prima è vero oh oh questo è niente la gelo è loro ragazzi cat e gatto non pensate male allora facciamo l'ultimo giro perché è tardi ok ok come potete ben ascoltare sono tutte schizzate sarà la stanchezza perché oggi abbiamo passato tutto il giorno fuori casa quindi secondo me siete molto stanche bisogna rilassarsi un po' perché dobbiamo andare a dormire quindi l'ultimo uovo a testa e a nanna ok aria vai aria vai l'ultimo eh dando trin l'ultimo io facciooccolino grazie amore think the kinder kinder una mega supposta Перaria oh che me la lancio addosso io lo so mi arriva un proiettile adesso ok Mamma mia Wow Super storia anche per Anastasia Bravissima Bene abbiamo deciso Di concludere qua il video Perché è molto tardi E le bimbe piccoline Sono molto agitate E proprio questo intendevo Quindi Vanessa, Anastasia Salutiamo i nostri cucciolini e cuccioline Ragazzi iscrivetevi a lei E fate un bel like A questo video Ciao 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 Ciao